Ci aspettiamo di accogliere molti turisti per far scoprire il nostro paese che comunque è poco conosciuto perché è un paese piccolino, 900 abitanti, è un paese di montagna, siamo a 586 metri sul livello del mare, sotto il Monte Catria, alle pendici del Monte Catria, ma è un paese che saprà sorprendere i visitatori perché ha molte unicità. Partiamo dal monastero di Fontavellana, sicuramente conosciuto in tutta la regione, in tutta l'Italia, però abbiamo anche altre cose che dovete scoprire e questa settimana è l'occasione per venire a scoprirle con un programma molto impegnativo. Abbiamo uno barra due eventi culturali al giorno e soprattutto abbiamo l'ultimo evento conclusivo che è una camminata nei prati, nei pascoli, diciamo prima del Monte Catria con annesso finale concerto dell'Orchestra Olimpia. Quindi suoneremo, facciamo un concerto sui pascoli dove fra qualche mese pascoleranno le mucche della razza marchigiana, quindi tipica della nostra regione.